Quando lei pensa alle prossime elezioni, nel 17, nel 18, si parrà la questione, io che faccio di questo gruppo che ho formato? Saranno 19, 20, 30? No, saranno 30. 30, benissimo, a maggior ragione, a maggior ragione. Che ne faccio? Forse anche di più. 40. Sera Andriche, buonasera. Aveva detto non aderirò al gruppo di Verdini, lei questa sera è qui alla presentazione del libro, è un caso? Stava qui per caso, non credo, senatrice. Torna indietro, stava uscendo, rientra. Gambe elevate. Sulla presenza qua è la conferma che passerà in ala. E solo per curiosità, per informarsi, diciamo, sulle posizioni di Verdini. Ce ne stiamo facendo solo una domanda. Senatrice, è solo una domanda, ma perché scappa? Passa e ripassa, senatrice. Il bloccatore, è arrivato, il bloccatore. Possiamo passare? Possiamo uscire oppure no? Ah no, c'è proprio il bloccatore, ecco. Professione bloccatore. La senatrice, nel frattempo, si allontana. Non si può rivolgere una domanda. E si può rivolgere una domanda. Ha detto, aveva smentito questa questione di ala. Quindi, poi la vediamo qua, volevamo capire come stando le cose. Dopo, se passa in ala, lo dovrà comunicare, quindi... E via in enoteca.